Le api si capiscono osservando il comportamento nell'alveare, quindi dai ronzii, dai rumori che producono, dallo stato di agitazione emanano tanti segnali e da questo l'apicoltore cerca di capire cosa sta succedendo. E adesso qui che sta succedendo? Ma qui le api sono in una fase di raccolta, adesso siamo nell'autunno, ci sono fioriture di edera e quindi raccolgono l'ultimo bottino che servirà loro come scorta per l'inverno. Grazie